E what's up a tutti ciurma e benvenuti da giocherini in questo nuovissimo episodio su The Quarry Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con il like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like So che ce la possiamo fare ragazzi, ve ne chiedo davvero pochissimi Per voi è soltanto questione di un secondo per cui per favore spolliciate il video Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa finalmente dopo tipo 5 ore di gioco E' arrivata la ciccia, finalmente abbiamo visto le creature con cui abbiamo a che fare E' successa una cosa tremenda ragazzi perché ho scelto veramente di cacca Infatti purtroppo Abigail ci ha rimesso la vita E adesso siamo in compagnia di Laura che era appunto ragazzi la tizia di inizio gioco Che stava andando appunto a Rackets Quarry col suo fidanzato Infatti sono stati, sono stati imprigionati dopo le vicende della introduzione dal poliziotto Che a quanto pare forse è imparentato proprio con Mr. H Insomma non ancora si è scoperto nulla di che E quindi adesso lei sta praticamente raccontando quello che era successo loro Quindi in questo esatto momento ragazzi ci ritroviamo a praticamente giocare una parte prequel Quindi l'obiettivo attuale è descugitare un piano di fuga Quindi vediamo un attimino cosa ci tocca fare Non ce la faccio più Non è male Sarà quello che mangiano anche al campo No, non ce la faccio più a stare in questo posto Ah Già, quello è un problema Facciamo qualcosa, dobbiamo andarcene, ci serve un piano Continui a dirlo Da settimane ormai Avisami quando ce l'hai, ok? Così non sei di grande aiuto, Max Dimentichi una cosa Cosa? Solo il piccolo dettagliuccio che potrei essere un licantropo del cazzo l'ora Shhh, abbassa la voce E allora che facciamo, dimmi? Scappiamo al tramonto e vaghiamo finché non mi trasformo in un mostro di merda e ti uccido? E ti mangio? E poi scappo via ancora con la tua carne tra i denti? Ok, ok, capito Un problema alla volta Robita Ok, non siamo certi che sia davvero così E non lo sapremo mai se restiamo qui dentro Ok Beh, mi sembra che ci siano solo due opzioni Cerchiamo di portare il tipo dalla nostra parte Così ci lascerà andare Molto semplice Proviamo a coglierlo di sorpresa e scappiamo Forse è quella più plausibile per assurdo E quindi questo sì ragazzi, Max avevamo visto che si era trasformato Però a quanto pare ci può essere un modo per ritornare alla forma umana Solo che non c'è stato dato sapere in che modo può accadere una cosa del genere E quindi loro non sono neanche consapevoli di essere dei licantropi Adesso loro due hanno fatto delle supposizioni Ma poi la cosa è rimasta lì perché evidentemente Max non ha avuto più l'occasione di trasformarsi Quindi non sappiamo neanche come avviene la trasformazione Se in un periodo preciso del mese appunto con la luna piena O a causa di emozioni forti Questo non lo sappiamo Comunque io direi ragazzi cioè facciamocelo amico La vedo veramente dura Perché comunque il tipo non è amichevole Non è affabile Non è una ceppa Quindi andrei su imprudente Non farò mai e poi mai la carina con quello stronzo Dobbiamo fuggire Bene, ok E come? Non lo so Lo stordiamo? Sto L'ora funziona solo nei film, lo sai? Quando dai una botta in testa a qualcuno tu Lo uccidi o gli causi un trauma cranico Non è che lo Stordisci Beh Pazienza Eh, da un lato sono d'accordo con lei Pazienza C'è un tizio che vi ha rinchiusi per mesi Cioè li ha rinchiusi per mesi E lui si sta preoccupando pure di fargli male Cioè comunque quello sta facendo una cosa che non può fare ragazzi Cioè ha sequestrato due persone Questo è il sequestro di persona Si può andare in galera per una cosa del genere Quindi io direi Vada per l'evasione Cioè a sto punto sti cacchi Bene Vada per l'evasione Usiamo nomi in codice? Se li usiamo posso essere tuono dorato? No, seriamente Max Hai deciso Ok Ci sono Ok Ecco che cosa faremo Ok Ha avuto l'idea geniale Per portarti alle docce Gli salti addosso Lo butti a terra E Gli prendi le chiavi dalla cintura Lo trascini nella cella Lo chiudi dentro E liberi me Poi rubiamo la sua auto E ce ne andiamo il più lontano possibile Sì Ok Questo però non è un piano Lo sai? È come dire scappiamo Ma con un sacco di parole in più No Lui non se lo aspetta Siamo qui da giorni ormai Non ci pensa più Chissà Chissà ragazzi Vediamo se ha avuto successo Il piano che hanno avuto Che è Insomma il piano che è venuto in mente a lei Perché fra il dire e il fare C'è di mezzo il mare I detti ci hanno sempre ragione Vediamo un attimo Che ha combinato il nostro Max Andiamo Ma lui si sta dietro Ora Dai Piano Davvero Davvero Non ci posso credere Ma che cazzo ritentati vuoi stato? No ma serio? Ma che cazzo No raga dai Ma è la mia doccia Merda Ha fallito miseramente Con un tentativo ridicolo Togliti subito Quei cazzo di vestiti Fa un culo Stai indietro Max che cosa succede Stai lontano da lui Cazzo Vieni Lasciami stare Siediti Sta ferma Vuoi fare la veterinaria? Ora farai pratica Oddio Liberami Non ci crederai Finché non lo vedrai tu stessa Sì ma una volta che l'ha visto Che cazzo La prossima volta Chiedilo e basta Cristo Resta lontano Beh non è che può tanto muoversi da lì Chiedi aiuto Aiuto Ci tiene prigionieri alla stazione di polizia Aiuto Sto arrivando Passo Mossa stupida E calla Non ne faccio una giusta Per la miseria Ehi non puoi lasciarmi qui A quanto pare può Sì posso Esatto E quindi Quando è che avviene Cioè vogliamo capire Quando avviene la trasformazione Perché Forse è davvero Nelle notti di luna piena Come si dice Oddio Sono qui Cioè Perché essere fredda Non è mica colpa sua Sono qui Tranquillo Max Sono qui Sì Sì certo Tutto bene? Eh beh Non saprei Non mi sento tanto bene Dimmi Come posso aiutarti? Mi sento caldo Tu hai caldo? Mi ha legata A questo cazzo Di tubo enorme Che non è proprio fresco Stai indietro Ok? Sei un po' troppo vicina Vicina? Non è che io abbia Tutta questa scelta Ora Oddio Max Max Dimmi Che ti succede Attenta Che poi esplode Max Max Adesso Adesso Oh Oddio È terribile sta cosa Ragazzi Di nuovo Audio protetto Da copyright Tra l'altro Ma è terribile Ok Così ha perso l'occhio Abbiamo scoperto Una libertà costata Un occhio Il tuo ragazzo Frega niente Eh Ah no Ah è tornata in cella Che cosa? È tornata in cella Vediamo cosa nasconde Quel bastardo Ma perché cazzo È tornata in cella? Oddio Ma perché? Ma forse Cioè Non ha la possibilità Di uscire Allora Questo Cioè A me mi sembra Mi sembra un po' strano Ragazzi Sinceramente Però Vediamo un attimino Anche se Sinceramente Avvicinarmi qua Non è che Lo trovo molto entusiasmante Max Niente Però non Non c'è stato spiegato Per quale motivo Poi avviene la trasformazione Forse è una Una cosa Che verrà spiegata Più avanti Ragazzi Va bene Ma vediamo cosa Nasconde quel bastardo Lei per decidere Di andare a sbirciare È dovuta prima Tornare in cella Invece di andarci direttamente Magari Provare ad uscire Ha molto senso Direi Davvero molto senso Cioè Andate in bagno E poi tornate in cella D'accordissimo Do per buono Sempre qualsiasi cosa Niente Nel bagno Non c'è Una ceppa di niente Per cui Non ci resta Che andare di qua Cosa abbiamo Qui Scrivani E scrivani Ecco c'è qualcosa Solo che a sto punto Non so se Cliccando da qualche parte Ragazzi Mi va avanti E poi mi perdo Tutto quello che c'è Qui intorno Quindi un attimino Prima di Cliccare sulle porte Oddio A parte che C'è Cazza Rola C'è una possibilità Di entrare a tre parti Guardiamo un attimino Sopra di qua Se c'è altro Questo foglio Cosa dice Cosa ci racconta Di interessante Cosa nascondi Travis Che dice Lettera di diffida Una lettera che ordina i creatori del podcast Bizzarro e bona fide Di smettere di investigare Su Hucket Squared Questo era il podcast Che ascoltava Il nostro caro Ryan Molto riassuntivo anche questo Nel senso che una volta La lettera te la facevano leggere No Mote fanno il riassunto Del riassunto Ho capito Ma posso entrare Cioè in tutte ste porte Quale sarà la La porta giusta Vabbè Andiamo per ordine Proviamo ad entrare Prima qui Niente È chiuso D'accordissimo Proviamo in quest'altra Pure chiuso Quindi niente Le possibilità si Si restringono Eh nasconderà qualcosa Non credi Ti sembra un tipo a posto No è per chiedere Perché ha sequestrato due persone Non si riesce a capire il cazzo di motivo Cosa nasconde Nasconderà qualcosa Che cavolo Pure qua è chiusa Figurati Ma non posso lasciare Max Continuo a cercare O È meglio se torno in cella E aspetto Io Io penso che Continuo a cercare Continuo a cercare Perché ci manca Questa porta qua Però c'è Lasciare Max Eh ma Riesce a tornare umano Cioè Boh Non sappiamo nulla Al riguardo Ok L'unica porta aperta Era questa qua Benissimo Quindi vediamo un attimino Cosa c'è di ciccioso E di interessante Anne Radcliffe ed Edward Benson Chi saranno? Erano quelli di cui avevamo visto tipo Esatto Il giornale di Che raccontava della scomparsa Tra l'altro Da notare ragazzi Che c'è anche il bigliettino Di quella tipo fiera Del mistero Non mi ricordo cosa cacchio Fosse Di preciso Che avevamo trovato Sempre in uno dei bungalow Di Del campo Eh sì La password Ciao Pronto? Scusate Dovevo avere un pezzo Di zolfo nell'orecchio Qualcosa Non ho capito Ancora Va bene Va bene Va benissimo Anche questo Tra l'altro c'è una foto Ribaltata Non ho capito Non ho capito il motivo Direi che è più chiaro di così Si muore Eh mio compleanno Eh Che giorno sarà mai nato Boh E ci prova Nonostante non sappia Una sega Di questa persona Cazzo Vabbè Circiare anche di sopra Andiamo dalla più lontana Alla più vicina Che dite Ma magari la più lontana È proprio quella che ci serve Allora un attimino Vediamo un po' Cosa c'è qui Questo cos'è? 56 eh Ah un biglietto d'auguri Dalla mamma 56 Significa che è nato nel 1965 Ok abbiamo scoperto l'anno Ma magari Può aver scritto Può aver messo come password Il giorno e il mese Probabilmente O magari quel biglietto d'auguri È tipo di 30 anni fa Ed è lì che marciisce Potrebbe essere Qualsiasi di queste ipotesi Ma ovviamente Ne sarà al 1256 Devo sdraiare Sì ho capito tesoro Ma ti rendi conto Di quanto è drammatica La situazione O no E sta pensando a sdraiarsi Sarei pure esausta Sarei sotto shock Tutto quello che te pare Però c'è Non lo so C'è qualcos'altro Di interessante Da queste parti Direi di continuare a sbirciare Io mi aspettavo Come minimo Di trovare Tipo 3-4 carte Roba del genere Oddio Non mi sentivo falso Chiunque ce l'avesse Non deve passarsela bene È carbonizzato Non è falso Questo distintivo Sheriff è stato danneggiato Dal fuoco Perché è uno sheriff attuale È uno dei predecessori Bella domanda Valla a capire Vattela a pesca Niente Cioè Queste stanze immense È per trovare solo Una cosa In ognuna di esse Va benissimo Così Anche questo Quindi Diamo un'occhiadina A quest'ultima stanza Ci sarà una pizza Un panino Qualcos'era a mangiare No Che stanza siamo Ci sono gli armadietti Vediamo un po' Oh shit Sarà quella Che ha usato Per drogarmi Ma c'è ancora Della roba dentro La nasconderò In cella Ok Può essere utile Per qualsiasi motivo Quindi Dopo aver preso La siringa Ma una carta No Manca a pagarla Com'è Guarda che la vecchia Poi si Si incacchia La vecchia Poi se la prende Con noi Luna piena Attenzione Compleanno Di Piers Abbiamo scoperto Anche il compleanno Guarda un po' Quindi 7 7265 Ma in ogni caso C'era segnata La luna piena Quindi Penso che questo Già spieghi in parte Quello che ci stavamo chiedendo Quindi risponde Alla nostra domanda In che momento Per quale motivo Sti cacchio di tizi Si trasformano In licantropi Quindi È collegata appunto Ragazzi Alla credenza Che I lupi mannari I licantropi Si trasformino Appunto Nella loro forma Mostruosa Proprio Quando c'è Luna piena Quindi Questo Già penso che In parte Ci abbia risposto Non ci resta Allora che Che è sto rumore Che cazzo è Vabbè Torniamo in cella Tranquillamente Abbiamo preso Stai calmo Devi stare calmo Devi stare calmino Ah questa era la poesia Quella incredibile Mi chiedo se lui Non sia così forte A poter sfondare Un muro di mattoni Ma mi auguro Sinceramente di no Va bene Va bene È arrivato il momento Ho esaurito Ho esaurito le idee E le energie Si 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 Ci sei Ci sei tesoro Dormi Dormi Chiudi gli occhietti Ah no Scusa Chiudi l'occhio Vai a dormire Io direi ragazzi Che penso Di aver Sbirciato Dappertutto Efficacemente Almeno mi auguro Quindi Dormiamo in santa pace Anche se in santa pace Con una bestia Del genere Dall'altra parte Oh 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 Vuoi dirmi Che è successo A te che è successo Potrei chiederti Lo stesso Eh Potevi scappare Avrei potuto È vero C'è proprio Tutta la ragione del mondo Ma a questo punto Direi Non abbandono Max Non abbandono Max Non mi fido di te Non importa Lo voglio aiutare Girati le mani sul muro Sul serio? Non ho voglia di discutere Ma Vabbè niente Neanch'io Oddio Vabbè L'avrà nascosta La siringa Credo Ma allora Sei deficiente Ma allora Sei deficiente Figlia mia È quella che hai usato Per drogarmi Non è un gioco Non avresti potuto Usarla su Max Ieri Così non ci avrei Rimesso l'occhio Sì Sì però Non è per niente Facile Queste cose Le devo capire ragazzi Perché ci danno Strumenti Che poi il gioco Inesorabilmente Ci toglie Ecco Come ha fatto Attorno a normale Che cos'è È educativo Guarda In che senso Niente Giorno 29 Ragazzi Del loro sequestro Che c'ha Benissimo Non è facile Come è scritto Nei libri Specie Se nessuno Ti aiuta Sei tu Il dottore Dottore Degli animali E no Non lo sono E probabilmente Mai lo sarò Resteremo qui Per sempre Sai Anche se sai Invece non sai Sai Eh Cosa Non sono Non è tutto come sembra Ma dai Dovrai essere Un po' più specifico Tu e Max Siete esattamente Nei guai Quanto lo sono io Perché però Spiegati Cazzo La mia famiglia Noi non siamo Cattivi Vogliamo solo Sopravvivere Come tutti Mi capisci In realtà No Non capisco Noi dobbiamo Finirla una volta Per tutte Sì ma Entra nello specifico Non ti seguo Sì Non capisco Non capisco Perché è vago Non capisco Di cosa sta parlando Che c'entra La tua famiglia A sto punto Quindi Che cosa c'entra La tua famiglia La mia famiglia È giù in fondo Un pozzo Cosa? La famiglia È la cosa Più importante Al mondo Ma se la famiglia Sì Se Ogni singolo membro Decide di saltare In un pozzo E poi Resta appeso Alla fune Tu da solo Puoi forse salvarli Tutti quanti No Se tiri quella corda Finisci in fondo Al pozzo Insieme a loro Anche tu E che senso ha? Ok quindi Tu sei quello In cima Al pozzo Con la fune E Continuo a parlare Per enigmi Pensavo fosse chiaro Sì certo È chiaro Sì Lascia stare Come pretendi Che io capisca Se non parli Non parli Nello specifico Non spieghi Vediamo quanto sei furba Che senso Che cos'è? Informazioni Cosa significano? Leggi Non appena la luna piena Splenderà La bestia Dall'interno All'esterno Esploderà Ok Tutti i deboli Patiranno Pene estreme Inseguo il tuo odore Ma l'acqua Pura Teme E se te stesso La maledizione Colpisce Uccidi il primo L'argento Ferisce Prima che la luna Piena Sia svanita La bestia Deve pagare Con la vita Soltanto così Avrà fine La tua pena E mai più Dovrai temer La luna piena Bella Sotto forma Di poesia Ma Vai avanti Ma C'è ancora Roba No 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 Non farò niente Di stupido E se ti trovi Davanti a un morso Separe immediatamente L'arto dal torso Prova a salvare La tua anima immonda Prima che l'infezione Si diffonda Cominci a capire Qualcosina si Non è che Dica poi cos'è tanto Oddio Dice Bisogna soltanto capire Fa abbastanza pena Perché usare le rime Invece l'ho trovata carina Non lo so Ma è tutto ciò che abbiamo Uccidi il lupo mannaro Che ti ha morso E verrai curato Usa l'argento Deve esserci la luna piena Mi sembra abbastanza semplice Se riesci a uccidere Il lupo mannaro Se ci riesci Io devo curare Max Non c'è una cura Mi sa tesoro Non è semplice Come credi Questo Allora Infatti Spiega Diverse cose Come per esempio Il fatto che temono l'acqua Poi spiega il fatto Di separare L'arto Che è stato morso Proprio per evitare Che l'infezione si diffonda Dice che ad esempio Se uccidi il lupo mannaro Che ti ha morso Praticamente la maledizione tua Svanisce E appunto Un altro aspetto tipico Dei lupi mannari Insomma Nelle credenze popolari Che i lupi mannari Fossero deboli Proprio all'argento Infatti dice Insomma Che solitamente Si usavano tipo Pallottole d'argento O comunque Strumenti d'argento Palletti d'argento Per ucciderli Quindi Diciamo che Le credenze popolari Ce le hanno ficcate Praticamente tutte A questo punto Mi sto chiedendo Se sono infetta Perché non so Se c'entra solo il morso O c'entrano anche i graffi Sono infetta? Un attimo Max mi ha ferito all'occhio Questo significa Che sono infetta anch'io No Non si passa con i graffi Almeno lo sappiamo Solo i morsi Ne sei sicuro? Abbastanza Non voglio essere cinica Perché Sembra abbastanza sincero Ragazzi Almeno questa È l'impressione Che sto avendo adesso Perché dovrebbe dirci Tutte queste cose Evidentemente Ci ha beccati al campo Max è stato morso E ha deciso Di tenerci Un attimo rinchiusi Per evitare Altri macelli Nel senso Sapeva che Max Comunque si sarebbe Trasformato In una piena Quindi per evitare Che andasse in giro Ad ammazzare A fare del male L'ha rinchiuso E idem Lei forse Non lo so Per non farla scappare Ed evitare Che andasse a spifferare Qualcosa a qualcuno Prima di raccontarle La cosa nello specifico Quindi io direi Incoraggiante A questo punto Qual è il piano? Quindi qual è il piano? Qui entri in gioco tu Io? Sì Per i tuoi studi In che senso? Non li ho neanche iniziati Beh, non ho opzioni migliori Caccio questo Dannato lupo Da così tanto Che comincio quasi A dubitare che esista Ma forse non importa Forse C'è un altro modo Pensa a quello che vuoi Ma la scienza C'entra E tu la conosci Ok Prenditi del tempo E pensaci Ma cosa dovrebbe Torno domattina Cosa dovrebbe capire O scoprire lei Scusami La scienza In che senso? L'hai visto? Cosa gli ha dato A lui Tra l'altro Continuo a chiedermi Cosa dovrebbe scoprire lei Al riguardo Non crederei a una sola parola Se non l'avessi Se non l'avessi visto Come si è visto lui? Si perde la ragione Quando si trasforma A questo punto Direi gli credo Ragazzi Perché comunque Questa cosa è talmente assurda Cioè l'abbiamo visto Con i nostri occhi Questo si è trasformato In un lupo Quindi lui Credo che abbia Delle buone intenzioni Però Nasconde altro Nasconde altro Riguardo la famiglia Non sappiamo Bene tutti i dettagli Però Direi Gli credo Io gli credo Non puoi dirmi Che adesso ti fidi di quello Non ho detto questo Ho solo detto Che gli credo Almeno La storia è delica Antropi Non quella sulla scienza Non so cosa voglia Appunto È un poliziotto Viscido Bugiardo e traditore Non possiamo credere A tutto quello che dice Lo so Però Boh C'è qualcosa Cioè tu Ti vuoi ritrovare Con lui Allora Sì Io l'ho visto Quello Che ho fatto Al tuo occhio Già È grave Beh L'ho perso Molto grave Direi di sì Mi spiace davvero Oddio In entrambi i casi Cioè È comunque comprensiva Però direi Empatica Non eri in te Cioè Che ce puoi fare Non eri in te So che non eri in te Forse Ma non cambia Sistemeremo tutto Promesso Lo prometto E questo è il punto Che non si sa Oddio Mr. H Era lui Ui Up Mi hai sparato Lo dico a me Ringrazia il cielo Che non fosse argento Che piani hai Non puoi trattenerli A vita Ci sto lavorando Se avessi fatto Il tuo lavoro Non sarebbero stati Al campo quella sera Lo sai Se lo facessi Saresti tutti in prigione Ci hai mai pensato Sono stati Bobby e Caleb Lo sai Gli escursionisti E quel cazzo Di giornalista Cazzo Travis Che cosa facciamo adesso Ora non vale più Siamo una squadra Merda Nel mio ufficio Non parliamone qui Quindi era lui Era lui Che gli aggredì Max Max Che c'è Oddio Travis il poliziotto Era là fuori Che parlava Beh Con Chris Huckett Ci è venuto a prendere No È il licantropo Max Chris Huckett È quello che ti ha morso Laggiù nella cantina Oh cazzo Oh cazzo ma Chi ne avrebbe detto Beh in realtà Pensarci era ovvio Non era proprio ovvio Diciamocelo Ha perfettamente senso Per questo l'auto di Chris Era alla baita Quella sera Travis lo stava proteggendo Ecco perché ci ha seguito E perché non ha ucciso Il licantropo in cantina E il suo cazzo di fratello È tutto così ovvio Ma sei a Chris Che mi ha morso Allora Dovrebbe uccidere lui Sì è la nostra cura Dovrebbe uccidere lui La nostra salvezza Sì Cristo Lora pensiamo la stessa cosa Oddio Domani usciremo da qui Toglierò Travis la pistola E ucciderò Chris Huckett Boom Bitch Non mio dio regà Non mio dio regà Non serve aiuto C'è un modo per curarsi Appunto quello di uccidere Il lupo che ti ha a morso Questo lo diceva anche nella poesia Che cazzo Che diavolo ha Lora Ti antisgamo Antisgamo Come ha fatto a prendergliela In tutta tranquillità Vabbè Eh tesoro Non mi sa che Che devi stare buono buono Qui dentro Dammi le chiavi Non devi farlo Silenzio A sto punto E Non è stato Sincero fino in fondo Ovviamente per proteggere Suo fratello Ma a sto punto Silenzio C'è zitto Stazzetto Chiavi Dammi le cazzo Di chiavi Dammele No Che dici Robin Che faccio No raga Cioè sinceramente Da un lato Non me la sento Di sparargli Perché non voglio Manco biasimarlo Fino in fondo Però Cioè A questo punto Delle cose Supplicarlo Non so Se servirà Magari Ci aggredisce E ci toglie la pistola Ma sparargli Per non aver sparato A uno Mi è morta Abi Non so che fare Cazzarola Veramente non me la sento Risparargli ragazzi Però va a finire Che se lo supplico E poi me so giocata Tutto Scegliamo Spara Te ne pentirai Cazzo Poteva sparargli A una gamba Che cavolo ne so Cioè Sparandogli A una gamba Magari Non lo uccidi E lui Non può neanche Correre troppo Cioè Poteva sparargli A una gamba Porca miseria E vorrei urlare Su qua Dai Non me l'aspettavo Da te Ho appena sparato Un uomo Però vabbè Che facciamo Col sergente Cazzetto Ormai Che dobbiamo fare Se la caverà Qui da solo Se la caverà Avrà tempo Per pensare Gli hai sparato In petto Ok Travis mi ucciderà Ottimo Davvero splendido Abbiamo scatenato L'ira Di un'altra persona Fantastico Benissimo Comunque c'è Se la caverà Gli ha sparato In petto Magari Gli ha perforato Un polmone Che cosa ci serve Proiettili d'argento Devono essere Qui in giro E' vero Si sono utili Solo le pallottole D'argento In questo caso Che c'è Ho sentito qualcuno Che vuole Sta voce No Lo sento ancora Ma di chi è Sta voce Di qua Viene da dietro La porta Loro Ci hanno fatto Questo Uccidili tutti Abbiamo trovato L'artiglieria Non c'è nessuno Ma che caccia Li crea lui Che roba è? Cartucce da fucile Riempite D'argento Quindi Il mese scorso Era caccia Beh direi che ormai Non gli servono più Ehi Sai ora cosa siamo? Liberi Non direi tanto Sinceramente Solo quando Chris Sarà morto Perché sennò Lui continua ad avere Sempre il solito Problemino Della Della mutazione Quindi solo quando Chris Sarà morto No Max Lo saremo Quando Chris Sackett morirà E non ci rimane Molto tempo Lo so Hai ragione Ma Ora godiamoci La vittoria Festeggeremo Alla fine Ora andiamo Ad Huckett Scorri E facciamola finita Stanotte Roba seria Signori Roba seria Sono arrivata qui Al campo Beh Che dire Allora L'episodio di oggi È stato abbastanza Statico Quindi si è visto poco e niente Ma è stato molto esaustivo Perché appunto Finalmente Siamo riusciti A ottenere delle spiegazioni Ricordo Quello che sta succedendo E c'è stato Il colpo di scena Che Ragazzi Max È stato morso Sì da un lupo mannaro Ma da quale lupo mannaro Dallo stesso Chris Sackettaglias Mister H Quello direi che è stato Un bel Un bel colpo di scena Però insomma Cioè Sicuramente forse Il tono del gioco Un pelino migliorato Visto che i dialoghi Non sono stati Fin troppo assurdi O cringe Per fortuna Solo che ancora Si deve capire Chi è sta voce Perché ci parla Sono stati loro Oro ci hanno fatto Questo Ammazzali tutti Qualcuno che si vuole Vendicare Chiaramente Forse è uno spirito Chi lo sa Ragazzi Ci ritroveremo La prossima volta A partire da qui Quindi siamo Il momento presente Laura ha spiegato Tutto quello che è successo E quindi non ci resterà Adesso Poiché agire Perché Però Bisognerebbe Capire Quali sono I lupi mannari In circolazione Sono Mr. H È il ragazzo Di Laura Comunque Entrambi si trasformano Quando c'era una piena Quindi se si è trasformato Uno si è trasformato Anche l'altro Non lo so ragazzi La situazione è abbastanza Controversa E vedremo Cosa succederà La prossima volta Questo video termina qui Grazie a tutti Un bacione Un abbraccio a tutti ragazzi Da Giocherina Ciao Grazie a tutti